Ora si registrerà la conferenza. Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema del risorgimento, il periodo del risorgimento, spesso, spessissimo, da quasi tutti viene studiato sotto un profilo di storia politica, civile, magari anche economico, religiosa, ma raramente da un punto di vista giuridico, istituzionale, costituzionale. Ed è per questo che io ho raccolto al volo l'occasione che la casa editrice Giuffre ci ha offerto nel pubblicare un libro che affronta il tema del risorgimento attraverso la conquista della Costituzione, anzi delle Costituzioni, anche attraverso un escursus del pensiero costituzionalistico italiano. Il libro in questione, questo ce l'ho in mano, si intitola Risorgimento e Costituzione, semplicemente pubblicato da Giuffre, la principale, una delle principali case editrici in Italia, l'autore è il professore Franco Gaetano Scocca, che saluto come ospite Radio Radicale, credo per la prima volta, almeno come ospite di una trasmissione. Benvenuto, professore Scocca. Buonasera, dottor Vileo. Allora, il professore Scocca è un'autorità nel campo della scienza amministrativistica, ha insegnato per molti anni sulla facoltà di giurisprudenza, la Sapienza di Roma, la cattedra di diritto amministrativo, che ha avuto docenti di livello altissimo e lui si è collocato su questo, Alessimo Severo Giannini, Sabino Cassese, faccio questi due nomi, non ne sciurino altri, e poi Franco Gaetano Scocca. Ma adesso è a qualche anno, a riposo, vero professore, è merito di diritto amministrativo? Sì, siamo a merito dal 2010, purtroppo. Benissimo. Allora, purtroppo non ho perduto, fortunatamente, perché... Forse hai ragione, forse hai ragione. Devo dire che nell'Ottocento i professori meriti si chiamavano anche giubilati. Giubilati? Ah beh, va beh. Sì, però giubilato ha un'accezione non sempre positiva, per cui è merito è meglio, poi abbiamo il Papa è merito, i docenti è meriti, i presidenti della Corte Costituzionale è meriti, è molto meglio. No, se ti contente, professor Fulcolangester, voglio presentarla prima, così poi mi può anche togliere il microfono. Professor Fulcolangester è l'interlocutore di questo libro, che poi sarà presentato, lo diremo alla fine, anche a Roma, ma qua è la prova generale, se si passate questa prova qui, poi il resto sarà tutto scherzevole. Fulcolangester, anche lui è stato una colonna della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, però ha insegnato la disciplina giuridica, diritto costituzionale italiano e comparato, autore di numerosissimi saggi, direttore di Nomos, è merito della Sapienza, però, insomma, un defesso lavoratore, per cui forse adesso lavorerà ancora più di prima, a meno dal punto di vista della convegnistica e poi della direzione di questa rivista, Nomos. Professore L'Ancestri, voleva dire qualcosa? Volevo dire semplicemente che, ai sensi della legge Casati, presi nel 59, sulla istruzione superiore in generale, i professori potevano ottenere l'emeritato, ma in realtà l'emeritato era la loro pensione, nel senso che rimanevano in servizio nella maggior parte dei casi, considerando anche l'età media, i 75 anni del periodo, volevano dire la fine di tutto, quindi non si andava mai in pensione. è stata la legge gentile che ha abbassato a 70 e poi c'è stato il fuori ruolo con il 44-46. Ma voi rischiate... vorrei fare un'osservazione sul professor Scocca. Il professor Scocca è allievo di Massimo Severo Giannini, Massimo Severo Giannini ha nelle sue radici sia Santi Romano, sia Luigi Rossi, e la sua attenzione per la storia è certificata anche dalle analisi con Iemolo sullo Statuto Albertino. Quindi il professor Scocca ripercorre nella sua riflessione temi che sono stati già presenti nell'ambito della sua scuola e dei suoi maestri. e se ci devono essere congiunti... Però, professore Lancester, non c'è nulla di più inedito dell'edito. Secondo me questo libro del professor Scocca comunque resta un unicum riguardo a questo argomento perché Troi tra l'altro dimostra una conoscenza una conoscenza delle fonti assolutamente strabiliante devo dire anche per l'apparato delle note molto molto ricco. Quindi la conferma che certi argomenti di storia giuridica possono essere affrontati solo da chi ha una formazione anche tecnico-giuridica. ma intanto professore Scocca ci può dire qual è intanto perché ha voluto scrivere questo libro? Ecco, sì, anche per forsi nella linea del suo maestro Massimo Sivero Giannini che aveva una sensibilità anche da storico ma qual è anche la tesi in pochi minuti di questo libro? Poi andiamo un po' sui dettagli. Guardi, per quanto riguarda le ragioni per cui mi sono dedicato a questa ricerca devo dire che semplificando le cose è la curiosità. La curiosità di sapere grossomoso da dove venivamo da dove è iniziata la vicenda costituzionale quali sono state le radici eccetera così come adesso mi sto occupando invece delle radici del diritto amministrativo che in grosso modo coincidono come diciamo che l'alba del diritto amministrativo è appunto negli anni in Italia negli anni 30-40 del secolo scorso. La tesi del libro sostanzialmente è questa che dal punto di vista storico le vere ragioni della unità sono state appunto la ricerca della Costituzione da un lato e gli sbagli di Ferdinando II dal punto di vista storico. Dal punto di vista giuridico la tesi è che diciamo la preparazione della Costituzione del 48 data da Carlo Alberto è stata più una preparazione di carattere emozionale che non di carattere diciamo uno studio effettivo di quello che sarebbe potuto essere la Costituzione. tanto che il testo dello Statuto è un testo piuttosto arretrato rispetto alle aspettative delle classi emergenti di quell'epoca delle classi conte di quell'epoca e che oltretutto lo Statuto così come è stato scritto era assolutamente impossibile da attuare in concreto tanto che la Prassi lo ha modificato profondamente fino al momento in cui è entrato in funzione del Parlamento nel 48 fino alla data della istituzione Regno d'Italia nel 1861 la Costituzione che effettivamente dirigeva nel 61 non era quella disegnata dallo Statuto del 48 questa è la tesi fondamentale a questo naturalmente si aggiunge come premessa tutto quello che era stato fatto tutto parte di quello che era stato fatto prima della restaurazione del 1815 che a partire dagli studi di Pagano in poi è invece una specie di ultra attenzione dopo il 1861 per vedere in realtà a grandissime linee che cosa è successo dopo lo Statuto nei primi decenni dell'esperienza unitaria italiana infatti lei ha citato Francesco Mario Pagano adesso poi la polemica sul Pagano di Vincenzo Cuoco ma insomma la tragica fine di Pagano del giurista librienza in piazza mercato a Napoli una rivoluzione quella molti dicono se non fosse fallita non fosse finita con la morte di Pagano probabilmente avrebbe segnato una storia avrebbe segnato una storia un destino diverso per per il sud del mezzogiorno però ecco la motivazione importante lei sostiene quindi bisogna capire mettere all'alerta il lettore bisogna capire che questa lotte rivoluzionari erano lotte non solo non per il territorio non solo certo anche ma per la Costituzione perché la Costituzione come atto scritto lei scrive e solennemente giurato era sinonimo nel pensiero del tempo di allora di garanzia di sicurezza giustizia libertà e partecipazione all'esercizio del potere politico ottenerla significava raggiungere la soddisfazione di queste vitali esigenze da qui la dicotomia che in realtà non è dicotomia ma è simbiosi tra risorgimento e Costituzione potremmo dire non c'è risorgimento senza storia costituzionale direi proprio di sì riprendendo quello che dicevo prima a me sembra che la Costituzione è stata veramente ciò che ha costituito la ragione di combattere prima è di diciamo studiarla dopo che è stata concessa uno che vorrei sottolineare è questo che la Costituzione non era necessariamente connessa con l'indipendenza e l'unità italiana è stato a dire che fino al 48 la Costituzione è stata chiesa ai vari principi italiani cioè non si intendeva unificare perlomeno unificare come stato unitario ecco la penisola ma si voleva semplicemente volere la Costituzione o perfino delle riforme nel senso di rendere meno intenso l'assolutismo dei vari principi italiani e secondo me se non ci fossero stati appunto quelli che io dicevo gli sbagli di Ferdinando secondo ci si avrebbe potuto arrivare con il che la Costituzione avrebbe poi costituito addirittura un ostacolo della unificazione reale dell'Italia questo è quello che penso io però qui passo una palla questo è appesi in realtà alla fine dell'introduzione si evidenzia una perplessità il punto 12 di pagina 14 se non ci fossero stati gli altri principi e le posizioni soprattutto di Ferdinando secondo il re bomba ma in realtà il problema dello sviluppo anche della coscienza costituzionale viaggia parallelamente alla trasformazione nel settecento dell'illuminismo illuminato di Maria Teresa ma soprattutto di Giuseppe secondo e di Leopoldo alla rivoluzione francese all'importazione nelle regioni settentrionali e meridionali del costituzionalismo di ispirazione francese e poi con la caduta di Napoleone la parte napoleonica è una diciamo l'assopimento della costituzione dell'autoritarismo monocratico ecco con la santa alleanza e la egemonia austriaca ed è questo l'importante per cui andremo a presentare il volume del professor scocca all'istituto storico austriaco che è considerato il vero avversario dell'unità dell'indipendenza della libertà e della costituzione italiana della costituzione nell'ambito italiano ecco il problema geopolitico è importante è importante perché le posizioni abbiamo perso l'Ancestern l'interesse costituzionale dei vari stati rispetto anche a che sono caratterizzate dalla posizione di tipo geopolitico il Piemonte tra Francia ed Austria l'isolamento del sud del regno delle due Sicilie ed in particolare il problema siciliano della costituzione del 12 la costituzione chiamiamola inglese di Pentnick del 1812 la tendenza invece napoletana a recuperare la costituzione di Cadice e quindi un altro tipo di forma di Stato ecco il problema che si connette a questa discussione fra giuristi fra costituzionalisti amministrativisti perché il problema della struttura dello Stato e storici del diritto quel colloquio che richiedeva proprio Paolo Grossi che è il fondatore di questa collana e della rivista per la storia del pensiero giuridico moderno nel suo primo nella sua introduzione alla rivista sta nel fatto di individuare il dibattito per la costituzione e per la sua articolazione come un dibattito in primo luogo sulla forma di Stato e dall'altro sulla forma di governo il problema della forma di Stato già dice che ci sono due tipi di impostazione che si vedono anche nel volume del professor Scopa e cioè l'impostazione francese nelle sue articolazioni moderata e giacobina e la impostazione britannica della costituzione inglese e la costituzione siciliana 1812 e l'Inghilterra tradotta in siciliano sto naturalmente semplificando e dall'altra parte il 1815 la politica di Metternich contro la costituzione contro la libertà di stampa contro per un illuminismo burocratico e autocratico che spiega la ragione per cui il professor Scopa ha fatto precedere l'Ottocento dalle riforme illuministiche del Settecento soprattutto nel quello che è l'area settentrionale di tipo asburgico ecco il problema della costituzione e chi è che ha il potere di suprema decisione schmittianamente chi è il titolare della sovranità e il Wiener Schlussat e con questo concludo dice all'articolo 57 che solo il sovrano e l'articolo 5 in realtà della monarchia rappresentativa Albertina stabiliva un collegamento con le costituzioni del 14 e successive proprio nella coerenza della posizione del monarchia poi discuteremo come nel 1848 la monarchia savauda abbia non solo concesso con Carlo Alberto lo statuto ma abbia anche modificato in progresso in maniera incrementale ed è per questa ragione che il professor Scoca si è lanciato nell'analisi dei dibattiti parlamentari e della discussione sul problema della forma di governo nel periodo 48 1860 61 per vedere i progressi incrementali verso una forma di governo che sposta l'asse da un dualismo orientato sul monarca a un dualismo temperato spostato sull'assemblea parlamentare di origine rappresentativa ed è su questo che si basa il ragionamento dello spostamento dell'asse dal sovrano alla parlamento di l'attività allora molto opportunamente il professor Lancaster ha ricordato che questo libro non poteva che essere pubblicato in questa collana per la storia del pensiero giuridico moderno e quindi la casa editrice Giuffre perché è un libro che si sviluppa sia in chiave diacronica sia in chiave sincronica la chiave diacronica è dato dallo sviluppo di questo pensiero costituzionale del passaggio dalla costituzione di Cadice fino alle altre costituzioni cominciare da quello statuto Albertino ma anche in chiave sincronica perché la dimensione geopolitica è importante cioè il professore Scocca qui è importante la storia avere chiaro anche le cartine a mappature il ruolo degli altri stati alcuni altri stati per dire che il diritto si muove in un contesto storico però poi è necessario anche avere delle competenze ovviamente tecniche lo studio dei lavori parlamentari la conoscenza anche dell'organizzazione della teoresi pubblicistica in particolar modo amministrativistica di cui questo libro ci offre ampia mola e per questo un libro anche di ampia mole di più di 600 pagine non è proprio un libro che si può leggere sotto l'albero di Natale così in pieno relax però ecco no no io invece trovo molto interessante il limite se non si trova noioso è perché uno non è però potrebbe essere regalato a Natale non ci sono dubbi naturalmente ma regalato ha regalato con un target di pubblico ovviamente direi perché è un libro è un libro non è un pamphlet è un libro che invita a conoscere meglio la vicenda costituzionale italiana e risorgimentale italiana però professore scolica a proposito di dimensioni sincronica dimensione diacronica ci può dire i protagonisti di questo libro farci qualche nome di protagonista politico e di qualche protagonista di giurista teorico costituzionalista che diciamo hanno trovato nelle sue pagine anche poi nell'indice dei nomi maggiori spazio e perché? Guardi secondo me dal punto di vista sia politico sia anche costituzionale il protagonista assoluto è Cavur e Cavur che ha dato veramente in tutte le circostanze in cui è intervenuto il Parlamento ha dato veramente il segno della evoluzione della disciplina costituzionale prima di Cavur c'era stato qualche episodio interessante per esempio uno in cui ancora si vede che nonostante lo statuto la mentalità del sovrano assoluto permane in Vittorio Emanuele II giovanissimo nel 1849 è quello che riguarda l'approvazione parlamentare dell'armistizio vignale e della pace di Milano dopo la prima guerra di indipendenza per ben due volte Vittorio Emanuele II ha sciolto il Parlamento perché il Parlamento la prima volta la prima Camera perché era poi la seconda legislatura non volle approvare il trattato di pace perché riteneva che fossero delle condizioni piuttosto pesanti dal punto di vista finanziario la seconda volta voleva approvarlo anche se non lo condividea cioè la terza legislatura però c'era un problema grave che riguardava addirittura l'onore del Piemonte cioè nel corso della prima guerra del dipendenza ovviamente molti lombardi e anche molti dei ducati di Parma e di Modena si hanno trasferiti in Piemonte ora che cosa succedeva questi qui essendo stata essendo state ammesse sia la Lombardia che queste questi ducati erano cittadini erano diventati cittadini del regno del regno di Sardegna ma quando queste ammissioni sono state annullate per via di fatto perché la guerra era stata perduta il problema era questo mantenere o non mantenere la cittadinanza che non tese a queste persone che erano andate a vivere in Piemonte e lì ci fu questo grande contrasto tra la camera che voleva che fosse mantenuta la cittadinanza e invece il governo che riteneva che non potesse essere per ragioni finanziarie che questo sarebbe costato ed è per questo che il re Vittorio Mare II sciolse per la seconda volta nel giro di pochi mesi la camera riuscendo finalmente alla terza elezione ad avere una maggioranza che poi approvò il trattato di pace senza nemmeno discutere ecco in questo episodio si vede ancora che il re è un re che ritiene di essere ancora il titolare del capo dello stato il titolare dei massimi poteri costituzionali e tra l'altro è noto nel secondo proclama di Moncalieri lui avverte proprio chiaramente e poi le cose cambiano nel senso che magari si farà meno dello statuto della costituzione e non sarò io responsabile sono questi che non si rendono conto che devono come lui diceva esercitare la saggezza pratica anzi la sapienza pratica cioè dire l'avvistizio ha le sue regole noi abbiamo perso la guerra certo che ci sono delle condizioni pesanti non possiamo che accettare questa era di guerra viceversa quando poi entra in scena Tavur e tutte queste cose cambiano profondamente sia quando si è parlato delle leggi Siccardi nel 1850 che contro le quali Vittorio Emanuele II si era abbastanza schierato eppure furono quasi tutte approvate dal Parlamento quindi nonostante che lei fosse contrario c'è una cosa particolare che vorrei segnalare è questo una delle leggi Siccardi riguardava le feste religiose e l'ordinamento piemontese stabiliva che chi lavorava nelle feste religiose veniva punito anche penalmente non si poteva fare senza una particolare autorizzazione le feste religiose erano numerosissime molto più numerose di quante si era adesso quindi era veramente un problema ebbene questa legge approvata dal Parlamento non è stata mai pubblicata non si capisce che fine abbia fatto non c'è un rifiuto della sanzione regge e soltanto è sparita dalla circolazione evidentemente anche allora si facevano delle cose che poi c'erano le manine c'erano le manine eh professore Scott beh insomma da questi piccoli dettagli il professore Scott ha fatto un nome ovviamente Cavour Fulco Lancaster in questa Europa manca un Cavour questo sicuramente manca anche un Adenauer questo è leadership di l'altro giorno proprio in preparazione della nostra conversazione mi è venuto in mente di riprendere l'introduzione di leadership di Kissinger cioè sulla fondamentalità della leadership nel soprattutto nei momenti di transizione ciò che sta evidenziando il professor Scocca e lo ha evidenziato con chiarezza nel volume e che Cavour non è soltanto Romeo ma moltissimi altri storici è stato un centro nevaralgico dell'ordinamento e tuttavia Cavour nel 1846 scrive qualcosa sulle riforme che debbano essere attuate dal punto di vista economico e anche dal punto di vista amministrativo per sviluppare il Piemonte nel 47 48 si impegna e nei suoi primi scritti è contro la costituente perché il vero problema è costituente statuto e contro la costituente ma nel maggio giugno del 1848 quando la componente lombarda chiede la costituente per la unificazione e beh cambia posizione perché quello che il liberalismo municipale degli anni 30 e 40 ha sottolineato da Meriggi e anche da Banti nel recente storiografia è consapevole ormai che l'anno dei portenti è giunto e che bisogna cavalcare la tigre anche la costituente poi è lo statuto il fulcro il simulacro dell'unità perché vorrei mettere in evidenza che nel che la Pillsdorf Verfassung la Kremser Verfassung e la Merz Verfassung vengono abolite in Austria e il problema sincronico è importante perché c'è la rivoluzione in Francia c'è la nuova costituzione c'è Luigi Napoleone ma c'è anche il processo costituzionale in Germania Francoforte e in Austria ma nel 1851 quando c'è il colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte il 28 Brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte l'unico ordinamento che rimane con costituzione in Francia in Germania e in Austria è il Piemonte e sotto questo punto di vista bisogna mettere in evidenza che se nel 48 49 i risultati delle elezioni prima del secondo del primo proclama di Moncaglieri e del secondo proclama di Moncaglieri avevano dato origine ad una assemblea parlamentare chiamiamola così democratica avanzata liberale moderata e la maggioranza del 1849 e quando c'è il colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte e ci sono i problemi delle leggi siccardi Cavour fa il connubio e lo fa con Rattazzi quindi il gioco parlamentare nasce proprio dalle esigenze di mantenere lo statuto cioè il mantenere quella connessione tra libertà unità e nazione che viene rappresentata dagli italiani non renicoli perché nello statuto di Carlo Alberto c'è questa dizione gli italiani non renicoli e cioè coloro che non sono cittadini il professor Scoca ha ricordato che tra il 54 e il 56 la confisca dei beni dei lombardi degli aristocratici lombardi che si erano rifugiati a Torino diventa un caso internazionale e le Cavour riesce mandando i suoi bersaglieri i bersaglieri di la marmora in Crimea a far diventare il caso italiano un caso internazionale e sotto questo punto di vista vorrei ricordare che a tutt'oggi l'inno nazionale della Savoia è l'esalo broche in cui si celebra lo statuto e la libertà perché nel 1856 De Sey che è un rifugiato francese contro Napoleone si rifugia in Savoia e quindi a Chambéry e in Regno Sardo e illustra le caratteristiche fondamentali dello statuto come tutela della libertà bisogna mettere appunto in evidenza e la storiografia lo sta facendo e lo ha fatto anche in modo molto opportuno il professor Franco Gaetano Stoca che la monarchia Sabauda e i ceti moderati con i ceti il ceto politico repubblicano mazziniano e democratico non estremista della società nazionale sono alla base di quello che è stato come in Germania un miracolo e cioè l'unità di un ordinamento che era frazionato in 11 stati o 11-12 stati collegati tutti con se si esclude l'Austria lo Stato Pontificio con l'Austria quindi l'elemento fondamentale è quello di un ceto politico che riesce a comprendere quello che è il momento in cui bisogna cavalcare l'onda e vorrei concludere mettendo in evidenza un fatto c'è un unico testo che io non ho trovato nel volume del professor Scocca ed è un testo di Zanardelli che riguarda studi sulla sessione parlamentare 1861-62 è inutile da dirsi si trova soltanto negli Stati Uniti è inutile dirlo possiamo pretendere che un professor emerito vada negli Stati Uniti di un altro emerito che non ha parole a carico e non ha problemi né di prole né di proimpoti allora professor Lancester incidentalmente ha fatto un riferimento a chi ma ecco l'energia devo dire che ma l'indomani di lotte che avevano studiare questa assemblea di popolo quella del 60-61 per la prima la prima volta Libero Unito diveniva una specie di costituente italiana poiché se essa non aveva da dettare una costituzione le era affidato tutto quell'ordinamento civile militare in cui più che nei pochi articoli di un patto sempre docile e flessibilissimo si adempie e concretasi la libertà la potenza la vita interna ed esteriore di una nazione questo per dire che l'opera del professor Scocca adesso sul processo di unificazione amministrativa e doveva essere preliminarmente preparata da questo volume che evidenzia come la classe dirigente fosse consapevole che era pericoloso per l'unità e per la libertà il processo costituente alla romana perché veniva considerato contrario agli equilibri geopolitici mentre bisognava ripostruire dal 1860 a 61 costruire dal 1860 a 61 l'unità del paese sotto il profilo amministrativo e in questo come diceva Lavagna dopo i politici vengono i giuristi ma Zanardelli Boncompagni Don Desreggio sono tutti politici e sono costituzionalisti ed è per questo che in realtà i costituzionalisti vengono soltanto dagli anni 70 i veri costituzionalisti anche Pasquale Stanislao Mancini è un non regnicolo che diventa cittadino e professore di diritto internazionale fa la prolusione del 51 52 per questo ripercorrere il volume di le note tra l'altro del volume del professor Scocca è estremamente interessante perché si vede quanto l'opinione pubblica fosse vivace l'opinione pubblica in questo caso è il cetomedio e anche l'aristocrazia soprattutto l'aristocrazia piemontese soprattutto l'aristocrazia perché il concetto di opinione pubblica come poi ce la presenta Jürgen Habermas è un prodotto del secolo successivo la seconda metà del secolo successivo in modo particolare io sono d'accordo con il professor Lancaster piemontese perché oddio anche Terenzio Mamiani era un nobile però per esempio l'aristocrazia meridionale era molto divisa molto divisa tanto per cambiare non è cambiata e beh sa poi benetto Croce farà nel 1923 un intervento sui doveri della borghissia meridionale 1923 e parlerà del fatto di una borghissia che deve avere un punto di riferimento e non disperdersi in mille rigoli opinioni assestanti professore Scocca ho dato molto spazio a professore Lancaster perché poi all'istituto austriaco avrà una funzione di moderatore quindi non potrà diciamo così sciorinare tutto il suo sapere soprattutto bibliografico ma non solo però lei lega la parola finale perché tra l'altro proprio il professor Lancaster ha citato anche lo Stato Pontificio una visione geopolitica lei trova dedica anche pagine a Pio Nono quindi la presenza di Papato naturalmente non è un incidente meno che mai un accidente però ecco anche qui viene affrontato insomma ci sono pagine anche di acuta analisi in conclusione cosa si sente di poter dire perché come è che il tempo sfugge siamo ormai alla fine della nostra conversazione abbiamo cercato di dare le coordinate generali di questo libro che poi va letto anzi va studiato va meditato però la conferma che capire l'organizzazione dello Stato la nervatura dello Stato richiede poi di una conoscenza giuridica istituzionale teorica anche di filosofia di diritto perché delle leggi e degli ordinamenti ma cosa si sente di poter dire a modo di sintesi finale questa nostra occasione io voglio dire alcune brevissime cose la prima è questa io ho l'impressione che i piemontesi in particolare Cavour non volessero affatto arrivare a una unità d'Italia puntavano più che altro ad avere tre stati d'Italia lo Stato dell'Alta Italia che doveva essere il Piemonte esteso al Lombardo Veneto e ai Ducati Pagani quindi praticamente la parte più importante dell'Apenismo lo Stato centrale dovevano entrare la Toscana e lo Stato del Vaticano salvo Roma che doveva essere rimasta doveva essere lasciata al Pado e poi lo Stato Meridionale secondo me Cavour poi è stato costretto da Garibaldi apporsi il problema dello Stato Meridionale e quando si è posto e qui riprendo quello che ha detto il professor Lanchester quello che si è voluto evitare è che ci fossero assemblee costituenti perché Cavour ha mandato ha mandato insomma ha mandato l'esercito sardo nel Meridione per conquistare al finire di conquistare il Meridione e per non far andare Garibaldi a Roma questo non c'è dubbio ma anche per evitare che le promesse fatte da Garibaldi avessero un seguito non ci dimentichiamo che Garibaldi in Sicilia e poi a Roliano in Calabria aveva deliberato detto pubblicamente che insomma lui voleva dare le terre ai contadini le terre ovviamente dei maniari comunali i maniari i feudali eccetera ai contadini e questo non andava bene ovviamente alla destra piemontese che poi era la stessa destra dei di coloro che dal meridione erano andati in Piemonte compreso Pasquale Stanislavoncini Giuseppe Massari e Ciavoia tutti quelli che insomma erano effettivamente la parte migliore l'elite questo da questo punto di vista insomma mi sembra che ci sia stata una forzatura che però è riuscito a controllare perfettamente salvo poi secondo me il lavoro è morto troppo presto perché poi quello che lui anche aveva promesso c'è una certa autonomia delle varie regioni italiane poi invece da di caso di poi è stata contattata l'altro problema che vorrei altro profilo che vorrei sottolineare è questo giuridicamente come è stata giustificata che senza dichiarazione di guerra il Piemonte invadesse non solo lo Stato Vaticano ma il Regno Meridionale che era ancora un Regno ovviamente uno Stato suorano insomma con il diritto di nazionalità cioè la nazionalità a un certo punto non era più un'aspirazione non era più uno Stato di fare ecco lingua letteratura storia e compagnia è diventato un diritto quindi questo lo dicevano chiaramente insomma io vado nel Meridione perché devo esercitare il mio diritto di nazionalità ma a questo punto per fare così una diciamo osservazione di attualità non è la stessa cosa che c'è in Ucraina perché Putin va in Ucraina perché dice che ha un diritto di nazionalità gli Ucraini sono russi e quindi non può benissimo andare ma è molto diversa la cosa è diversa però completamente l'atmosfera di carattere generale cioè allora veramente si credeva che esistesse un diritto di nazionalità ma un secolo e mezzo fa non adesso adesso ovviamente questo il giudizio di si guardare su questa cosa è completamente opposto beh e del resto che non era mai sceso corregga l'Ancester al di sotto di Roma non credo avesse mai messo piede nella campagna originaria del Dottor Sorscoca o nella mia Lucania io farei un altro paragone di Putin perché lì ci interviene il tema anche del mondo ortodosso della terza Roma tema abbastanza complesso pubblicato non possiamo neanche sciurinare di poco tempo l'altro giorno il ministro Calderoli è andato a Napoli e ha incontrato il governatore originario di Calitri e ha incontrato ha incontrato il governatore qui si è parlato di autonomia differenziata però allo stesso tempo la parte dei Calderoli che però prendeva atto delle osservazioni del del governatore sul fatto che si rischiava di dividere l'Italia sostanzialmente in tre parti ma con un gravissimo documento per il Sud che si sarebbe poi ripercorso anche sul nord quindi per certi versi i problemi ancora si trascinano da questo punto di vista che è l'autonomia differente però il problema è che mentre nell'ottocento il principio di nazionalità e di unificazione si rivolgeva contro gli imperi dei plurinazionali che non venivano neppure riconosciuti come plurinazionali qui siamo in un mondo globalizzato in cui si dovrebbe riconoscere la il costituzionalismo a livello globale ecco questo è uno dei problemi che discuteremo e per questo mi fa piacere di far partecipare anche il di Leo dopo domani o insomma giovedì il tema della costituzione è connesso con quello del costituzionalismo ma il costituzionalismo ha una costituzione che quindi ha la sovranità e ha un ordinamento che è competente per la competenza nell'ambito globalizzato si hanno degli elementi di frantumazione o di indebolimento di questa teoria ottocentesca e il recupero per esempio del modello austro-ungarico per l'Unione Europea rispetto a quello tedesco bismarchiano del federalismo del 1871 questo è interessante sotto un certo tipo di profilo perché ci immette nell'ambito di un costituzionalismo se sia possibile avere un costituzionalismo senza costituzione e ci riporta al vecchio problema del costituzionalismo di radici locchiane privatistiche che poi diventa pubblicistico e il modello che è il modello inglese e il modello invece francese basato sulla costituzione e la sovranità che può essere della nazione popolare o alla tedesca dello stato se vogliamo sono tutti temi che si collegano con la tua trasmissione e con il volume del professor Scoppa e cioè il costituzionalismo e la costituzione oggi con le difficoltà di mantenere libertà e diritti ma con l'indispensabilità che vi sia un limite al potere sì io però ho l'impressione caro professor Lancaster che l'autore più importante dopo 30-40 anni di ubriacatura cantiana oggi l'autore che abbia più influenza e l'opera abbia più influenza più che la pace perpetua è l'Eviatano di Thomas Hobbes in reazione anche a una certa globalizzazione che ha connotato più l'aspetto economico anzi finanziario che quello politico e istituzionale e la reazione è quella di chiamare in causa e Hobbes e poi il suo caro carissimo Schmitt sulla dicotomia amico nemico Hobbes su Kant e Schmitt su Kelsen questo sarebbe interessante chiaramente su questo piano caro Schmitt che era meno nazista di quanto non fosse un cattolico chiamiamolo così demestriano collegato col Wiener Schlußacht appunto con l'assolutismo ti dice che pensava anche lui che venuto lo stato di massa finito alla legittimità trono altare ci voleva soltanto la dittatura ora sotto questo punto di vista è estremo e non è opportuno è utile per vedere quali sono le alternative su Putin io direi che la questione ucraina che tu osservavi e mettevi che anche il professore ha messo in evidenza e il problema del scongelarsi di una questione non risolta dopo il primo conflitto mondiale quello della nazionalità dei ruteni degli ucraini dei russi bianchi il problema che tu hai sottolineato della grande Russia con utilizzazione da parte di Putin ma anche di Zelensky di temi di indottrinamento di massa e di inglobamento di massa perché con la forza militare tu riesci a evidenziare quali sono i confini della nazionalità perché impedisce agli altri di essere ucraini oppure di essere russi questa è una guerra non solo di Putin l'invasione è stata cominciata da Putin ma la guerra è stata cominciata tre anni fa dal patriarca Kirill che ha scomunicato una forma diciamo così ecclesiologica di bombardamento sul piano politico il patriarca la parte del patriarca Bartolomeo che aveva riconosciuto l'autocefalia di una parte della chiesa ucraina adesso entrano nelle abazie e nei monasteri collegati con Mosca ma il vero problema è che se c'è una tradizione ceseropapista il problema è il 2004 e il 2014 gli accordi di Minsk e l'intervento geopolitico est-ovest nato non l'Unione dell'Italia è uscito un libro di Vetic pubblicato dal Mulino proprio sul rapporto est-ovest molto interessante sull'argomento che ho discusso la settimana due settimane fa con l'autore che tra l'altro di cui tra l'altro uscirà un libro sul Mediterraneo a conferma e sull'Adiatibo conferma che anche i mari hanno la loro importanza non solo il territorio ma anche il mare però vede il professore Scocca come il suo libro che parte da un'apparente microstoria in realtà poi si allarga non poteva che essere così perché è un libro intelligentemente costruito sapientemente costruito con una cribia filologica anche davvero davvero storico ma un giurista non ha una formazione storica un giurista elevato anche se Orlando la pensava in modo diverso chi la pensava in maniera diversa? Orlando Vittorio Emanuele Orlando nasce accademicamente a Palermo dove non c'era un professore di diritto costituzionale perché c'era Ugdulena il fratello di uno dei commissario dei ministri del governo dittatoriale di Garibaldi che non ha prodotto mai niente ma lui e Mosca hanno iniziato a produrre temi su temi di tipo storico politologico sì sì la forma storica ma noi abbiamo discusso quel bel libro qualche anno fa è uscito ormai una decina di anni fa di Massimiliano Gregorio no? Sulla forma partito Vittorio Emanuele Orlando era così intelligente che poteva sapeva che il metodo è uno strumento adatto all'interpretazione e nel 1885 sapeva che la fine dell'opera del legislatore per l'unificazione amministrativa aveva bisogno anche dopo la riforma del 1882 della riforma elettorale le dì una teoria dello Stato la personalità dello Stato che in realtà glielo disse Togliatti Adam d'Orlando lei vorrebbe il monarca e il Parlamento sotto la personalità dello Stato c'era questo c'era questo il monarca e il Parlamento il suo conflitto per evitare lo spesso ma infatti nella Costituente poi Vittorio Emanuele Orlando periodo della Costituente la stessa dottrina Vittorio Emanuele Orlando stesso ebbe una posizione non da protagonista non per un caso era ormai un uomo se non da seconda metà dell'Ottocento comunque da prima metà da primi decenni del Novecento perché lui diceva nel 26 che si rendeva conto che le sue concezioni dell'885 dovevano essere riformulate perché questo lo diceva anche Benedetto Croce a chi faceva notare che ormai era uomo del secolo passato e lui diceva no no ripensate nel senso riformulate le mie concezioni teoretiche e ne sulla letteratura sull'arte sul barocco e sulla filosofia soprattutto e su legal molto opportunamente tu hai detto molto opportunamente che abbiamo presentato il volume di Gregorio e abbiamo discusso dei partiti su che cosa è morto scrivendo che cosa è morto Vittorio Emanuele Orlando non morirebbe più su quei pezzi ma è morto sull'opera scrivendo un saggio sull'opera di Giverce sui partiti politici nel 1951-52 cioè si rendeva conto che il concetto di personalità dello Stato e di rappresentanza doveva essere integrato dalle forme di trasmissione della volontà popolare cosa che nel 1848 di Gavur certo certo solo che naturalmente veniva fuori in quegli anni una nuova generazione penso in Francia a Maurice Duverger che aveva una missione aveva costruito una visione culturale diversa sul volume di Givercelle partiti politici che lui che io lo dico a fare allora professor L'Angester siamo a un'ora di discussione chiuderei qui poi giovedì spero di potervi venire a trovare all'istituto di cultura però intanto io ringrazio il professore innanzitutto che so Franco Gaetano Scocca ci ha dato l'occasione di discutere questo suo importante mi sento di dire dovrebbe essere anche adottato come testo nelle facoltà giuridiche negli insegnamenti di storia del diritto risorgimento e costituzione pubblicato da Giuffre grazie professore Scocca grazie a lei grazie soprattutto al professor L'Anchester grazie a Fulgo L'Anchester grazie soprattutto al professor Di Leo grazie non sono professore professori sono già ce ne sono parecchi in giro lasciamo perdere non inflazioniamo il titolo grazie all'assistenza del tecnico Carmine Corvino e naturalmente un saluto e un ringraziamento finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale di Luca di Jul